Gentili telespettatori buona giornata. Giorgia Meloni accarezza l'idea di tornare a votare perché si sente forte, fortissima e pensa che da un voto uscirebbe fortificata mentre gli alleati sarebbero ridotti ai minimi termini proprio a causa della litigiosità. La storia insegna che chi divide paga pegno. Dice se l'obiettivo è ridimensionarmi, dei due, Antonio e Matteo, se vogliono ridimensionarmi temo che a perdere consenso saranno loro. Dice la Meloni a entrambi i litiganti dei due partitelli nella maggioranza. E poi dice io lavoro come una matta e c'è chi non sa spingere un bottone. Uscire fortificata nel far cadere un governo io direi proprio di no. Se la Meloni dovesse far cadere il governo per tornare a governare più forte di prima sarebbe uno sbaglio terrificante. Lo ha già fatto Salvini, non so se vi ricordate, Salvini aveva quasi il 40%, anzi chiese i pieni poteri. I pieni poteri non erano nient'altro che votatemi così con il 42% minimo posso avere la maggioranza sia al Senato che alla Camera. In Italia non è mai riuscito nessuno a governare con il 42-43%, quindi in teoria può andare al governo anche un solo partito e avere la maggioranza nei due rami del Parlamento. Ma non c'è riuscito mai nessuno. Era per quello che Salvini chiese ai pieni poteri, fatemi governare senza alleati così faccio quello che voglio, senza dover chiedere ai vari Di Maio. Però gli italiani non gradirono che lui fece cadere il governo e lo votarono sempre meno. Lui che studiava da Premier, fece cadere il governo perché doveva fare vedere lui agli altri politici che sarebbe andato a governare da solo e invece non si andò alle elezioni e lui finì all'8%, da quasi 40 all'8%, una caduta di quelle inenarrabili. Quindi, cara Presidente del Consiglio, andare a votare pensando di uscirne fortificati sarebbe uno sbaglio clamoroso perché oggi lei è intorno al 30%, ma se fa cadere un governo per andare al voto, prima di tutto che fai? Fai cadere al governo perché Tagliani e Salvini litigano e poi chiedi di votare di nuovo il centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia? Tutti e tre di nuovo insieme? Che c'ha zecca? Che c'ha zecca? Quindi poi tenti di rifare un governo uguale a quello che hai fatto cadere? Che senso ha? Pensi di prendere il 40% da sola eliminando questi due partiti? Impossibile, questi due partiti hanno un nocciolo duro di elettori che c'è, che non cambia partito. Quindi pensare di far cadere un governo avendo il 30% come partito e andare poi alle elezioni e prendere il 40% secondo me non funziona proprio. E poi ricordatevi che nel 2022, quando ci furono le elezioni, il capo del PD, Enrico Letta, disse no al campo largo, disse no al tutti insieme. Se nel 2022 si fossero messi tutti dal primo all'ultimo insieme nel centro-sinistra, avrebbero vinto le elezioni. Questa è la verità. Vinse il centro-destra perché il campo largo non si formò. Se si va adesso ad elezioni a primavera, il campo largo si forma, si mettono tutti insieme. Non avete visto quanto astio hanno, quanto rancore e invidia, quanto odio hanno in corpo? Pensate davvero che non si metteranno insieme in caso di caduta del governo per andare a governare loro? Ve li immaginate? Fratoianni ministro, Bonelli ministro, Conte ministro, Renzi ministro, Calenda ministro e la Schlein che parla a vanvera, capo del governo? Lì del consiglio di ministri, la Schlein che dice come se fosse Antanis, Biliguda, Quintana, Setta. Occhiello di privilegio anche per voi o scherziamo? Ecco, immaginatevi un governo del genere, coi fuochi fatui. Immaginatevi un governo del genere, quindi sarebbe un disastro, un disastro. Pertanto, cara Meloni, andare alle urne perché se ti senti forte, fortissima, guarda Meloni che Salvini aveva quasi il 40%, tu hai quasi il 30%, Salvini aveva il 10% in più di te e volendo andare al voto il famoso papete è finito poi all'8%, oggi non lo vuole più nessuno. Quindi andare al voto anticipato è assolutamente, totalmente controproducente. Andare al voto anticipato non credo che governi di nuovo il centrodestra, come vi dicevo prima. Vorrebbe dire avere la Schlein, capo del governo, che dice come se fosse Antani, Quintana, Setta. Quindi attenzione perché l'Hellichelli è lì pronta. L'Hellichelli è lì pronta. Quella ha una fortuna grossa come un grattacielo. Quella senza sapere nulla di nulla, parlando proprio a vanvera, è già capo del secondo partito italiano. Deve essere una donna molto fortunata, molto scaltra, perché sta arrivando verso la cima, sta arrivando sulla cima. Quindi Meloni non facciamo scherzi perché consegniamo l'Italia a Lellichelli, a Santori, a Jasmine Cristallo. Ci troviamo quella gente a governare il paese. È Jasmine. Arrivederci a tutti e grazie.